Benvenuti al Tg7 Basilicata. La cronaca. Luca Ricci, 50 anni, dopo 16 ore di interrogatorio, ha confessato di aver ucciso i genitori a Fano. Nella notte è stato fermato e portato in carcere per omicidio plurimo aggravato dalla crudeltà. Ieri mattina ha strangolato la madre, Luisa Marconi, 70 anni, e colpito a martellate il padre, Giuseppe Ricci, 75 anni. Separato padre di due figli, il 50 anni ha spiegato di aver ucciso i genitori perché non volevano dargli altri soldi dopo che già aveva fatto perdere loro la casa per i suoi debiti. Per questa edizione è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.